Antonio, Pescarese ormai d'adozione ma originario di Bitonto, un derby per te? Sì, più o meno sì. Sappiamo che affrontiamo una squadra difficile, in un campo molto difficile, quindi non sarà sicuramente una partita semplice per noi, ma bisogna rialzarsi, quindi siamo più carichi che mai. Bisogna insomma ripartire dal secondo tempo, la partita col Brescia, no? Sì, ma se rivediamo la partita, io l'ho rivista due volte, devo dire che abbiamo avuto delle difficoltà sui nostri errori, ma fondamentalmente la partita l'abbiamo fatta anche noi, quindi se girano a favore alcuni episodi può cambiare il corso della partita. Quindi ci siamo e dobbiamo ripartire dall'atteggiamento positivo che abbiamo avuto nonostante il risultato che non è stato positivo. Insomma la squadra non esce ridimensionata? No, assolutamente. Sappiamo che purtroppo queste sono situazioni che possono accadere, l'unico modo per rispondere è rimboccarsi le maniche e lavorare. Senti, lo sfogo di Brugman, il capitano che ha detto testualmente ieri, critiche eccessive alla squadra? Beh, siamo stati primi, secondi, terzi per tutto il giorno d'andata, quindi penso che si debba creare un entusiasmo più che una critica. Quindi abbiamo bisogno di tutti, lo sanno tutti, quindi invitiamo a tutti a seguirci, a starci vicino anche se il momento può essere di difficoltà. Senti Antonio, i moduli non risolvono le partite, questo è il mio punto di vista, conta soprattutto l'atteggiamento. Però può aiutare questo 4-3-1-2 che sembra voler adottare il tecnico? Ma i moduli sono numeri fondamentalmente, quindi hai detto bene, l'atteggiamento è quello che fa la differenza. Giochi con 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-3, 3-5-2, è uguale. L'importante è che si entra in campo con la voglia di portare a casa un risultato in un campo difficile, quindi qualsiasi sia il modulo dovremo entrare con la testa giusta e l'atteggiamento giusto. Grazie.